Ben trovati a tutti i telespettatori di Caffè TV24, da Eleonora Passarella in questa nuova puntata di incontri. Ad animare questa nuova edizione, la musica in uno degli scenari più suggestivi della nostra regione, l'isola di San Giorgio. E proprio oggi infatti abbiamo il piacere di avere con noi il direttore artistico di Asolo Musica all'auditorium Lo Squero della Fondazione Giorgio Cini. Una vera e propria rassegna ricca di appuntamenti che si tiene proprio dal 4 giugno al 17 dicembre con la direzione artistica del nostro ospite, il direttore Federico Pupo. Ben trovato direttore. Grazie. È un luogo straordinario, lo Squero, un piccolo auditorium ricavato da un piccolo laboratorio navale, un piccolo cantiere che era nella scuola professionale di Marinaretti, questo luogo dove si insegnava a navigare. Chiuso questo luogo è stato affidato alla Fondazione Cini che ha avuto la bellissima idea e intuizione di trasformare questo piccolo spazio che dà sul canale grande in un piccolo auditorium perfettamente adatto alla musica da camera e all'acustica meravigliosa. Per un artista quindi come lei, cosa rappresenta quell'atto demiurgico del fare musica oggi e soprattutto cosa significa la direzione artistica di una rassegna così importante? Beh, una domandona questa, significa veramente tante cose. Prima di tutto ragionare sul luogo dove si va a programmare. Quindi la musica deve essere compatibile acusticamente e come spazio proprio fisico a quello che si va a proporre. Poi naturalmente bisogna pensare al pubblico, al pubblico al quale offriamo questa pietanza, questo menu che è la rassegna musicale. In questo senso devo dire che lo squero è assolutamente stimolante perché in questo caso lo spettatore non soltanto gode del suono ma gode anche della vista di Venezia che vive. Se le dovessi poi dare tre parole chiave come musica, cultura e territorio, si può dire che queste rappresentino un trinomio perfetto, quasi una sinergia di un'istantanea ormai imprescindibile? Ma assolutamente, già Venezia di suo è un luogo straordinario, meraviglioso a cui non possiamo mai abituarci. La musica è un elemento che è imprescindibile dalla nostra vita per la quale siamo in grado di affrontare e di goderla anche senza necessariamente essere degli addetti ai lavori, degli esperti. La natura di Venezia che vive e la musica assolutamente è un colubio straordinario. Una domanda ora un po' personale. Su come è nata questa passione per la musica che l'ha portata a così alti livelli? E solo per citare una parte del suo background possiamo ricordare che ha suonato nell'orchestra filarmonica Veneta, della quale è diventato segretario organizzativo, e la collaborazione anche con i solisti veneti per l'organizzazione artistica di produzioni discografiche e concertistiche, e realizzato anche progetti di guida all'ascolto, conferenze, lezioni concerto, e facendo poi un balzo proprio temporale, arrivando ad oggi un balzo però che è ricco di impegno e ricco soprattutto anche di amore per la musica, arrivando quindi alla direzione artistica di questi giorni. Raccontiamo però un po' quindi la genesi di questo suo bagaglio. Allora, diciamo come intanto una delle ultime avventure che sto affrontando con un grande entusiasmo è quello dell'insegnamento. Tengo un corso all'Università Ca' Foscoli dove spiego appunto come funziona l'organizzazione dello spettacolo e racconto ai miei studenti che per fare questo mestiere ci vuole prima di tutto passione, come per tutti i mestieri. La passione ci guida in questa cosa. E per me la passione è nata dalla fortuna di avere dei genitori che mi hanno avvicinato, che mi hanno dato questa opportunità. E questo vale per tutto, per lo sport, per la musica, per qualsiasi tipo di passione che ci può nascere fin da giovani. Poi un po' di competenza, perché no, un po' di studio e poi tanta fortuna. Io ritengo di essere stato fortunato di incontrare persone che mi hanno aiutato, che mi hanno guidato, che mi hanno dato delle opportunità. Abbiamo citato i Solisti Veneti, l'incontro con Claudio Scimone, del quale servo un bellissimo ricordo di straordinaria amicizia, che mi ha insegnato veramente tantissime cose di questo mestiere, che non è soltanto quello di programmare, di ideare, ma vuol dire anche pensare, per esempio, alle questioni tecniche, organizzative, alle questioni del budget, delle questioni economiche, che sono altrettanto importanti. E ritornando così ad oggi, in che modo si giocano quindi quelle sinergie tra territorio e l'arte performativa di portare la musica all'interno di questo tipo di rassegne? Ma ogni territorio ha dei valori straordinari che sono conseguenti alla natura, all'architettura, alle bellezze artistiche, alle tradizioni e il Veneto è uno scrigno straordinario in questo senso e quindi lavorare anche su questo aspetto è assolutamente facile. Faccio un esempio, quando noi ragioniamo sul progetto della valorizzazione degli organi storici, che il Veneto ha all'interno di chiese meravigliose strumenti storici del 6, 7, 800, e che tutto il mondo ci invidia, vuol dire lavorare proprio in questo senso, sul territorio, sulle eccellenze, offrendo quindi opportunità musicali all'interno di luoghi già di per sé stesso straordinari. E proprio la musica rappresenta anche un gate di quelle che possono essere anche delle speculazioni introspettive e proprio questo aspetto è stato il focus del primo appuntamento della rassegna. Sì, naturalmente per chi promuove, per chi organizza dei progetti culturali assieme agli artisti, come in questo caso Mario Brunello, si va a ragionare su alcuni significati che la musica e l'arte e la cultura in generale ci offrono. Non soltanto, ma come ogni anno andiamo a verificare e a sviluppare degli anniversari, come nel 2022 abbiamo l'anniversario di Pierpaolo Pasolini, un grande cultore appassionato di Johann Sebastian Bach e Pasolini, grande scrittore, grande poeta, grande conoscitore della società, persona dichiaratamente atea, ma che raccomandava di avere un atteggiamento religioso rispetto alla vita. Ecco che dunque è cucinato la pietanza di Bach, la sua musica, la sua religiosità, raccontata, ragionata da Mario Brunello con il suo violoncello piccolo, assieme a Fratellino, che su queste sonate e partite di Bach racconta e immagina un percorso mistico, un percorso biblico che viene raccontato assieme alla musica. E quindi quali saranno i protagonisti di queste 12 giornate ricche di bellezza e di musica? Beh, intanto gli appuntamenti, questo ciclo dedicato a Bach di Mario Brunello, che eseguirà gli integrali delle sonate e partite per violino con il violoncello piccolo, quindi una curiosità ulteriore rispetto a questo repertorio. Sonig Ciaccherian, anch'essa con il violino, grande musicista di origine armena, anche lei eseguirà le sonate e partite, e poi Roberto, chiedo scusa, Loregian con il clavicembro, che eseguirà le straordinarie variazioni Godberg, sempre di Bach. Quindi questo è un filone che da sempre è contenuto all'interno della programmazione dello squero. Poi abbiamo il quartetto di Venezia, quartetto residente alla Fondazione Cini, uno dei quartetti più longevi, ha 40 anni di vita, un traguardo straordinario per un gruppo, per un ensamble, il quartetto d'archi molto complicato, molto problematico. Io dico sempre che il quartetto d'archi è come un matrimonio in quattro, quindi le problematiche fra due persone viene moltiplicato per quattro. Un quartetto straordinario che proporrà non soltanto il repertorio classico da camera, ma anch'esso lavorerà su un anniversario importante, che è quello di Cesar Frank e di Proust, alto grande scrittore, amante della musica, insieme a degli artisti, dei solisti meravigliosi, come Gloria Campaner, come Marco Rizzi, il violinista Marco Rizzi, e il pianista Gabriele Carcano. E poi, e poi perché no, il jazz. Il jazz che irrompe con prepotenza lo squero, e con grande diritto da musicisti, eseguito e realizzato da musicisti meravigliosi, come Rita Marco Tulli, Sabato 11, e poi il grande Danilo Rea, questo grande pianista, riconosciuto universalmente come dei grandi musicisti del jazz. Una grande bellezza che si nutre anche di grandi ibridazioni. Ma se dovesse poi dare un consiglio ai giovani, e non solo ai suoi studenti, cosa direbbero loro sull'ambito della musica e come viverla ad oggi? Ma intanto avere la voglia, la pazienza, il coraggio, a volte, di togliersi dalla pigrizia e affrontare la musica, qualsiasi essa sia. Non ci sono barriere, non ci sono paletti, la musica ha un valore indipendentemente che si chiami musica antica, musica barocca, musica classica, pop, rock, jazz, qualsiasi genere va bene. Affrontare la musica ma con il rispetto della musica, e quindi spogliarsi di ciò che il mondo che ci dà, delle preoccupazioni, insomma il consiglio è quello di affrontarla come quando si legge un libro, come quando si guarda un quadro, un panorama, si gusta un piatto gustoso, meraviglioso, lasciarsi trasportare dall'emozione che la musica ci può dare, qualsiasi essa sia. E cosa pensa, direttore, anche delle ibridazioni adesso che ci sono tra musica antica e quella che è un po' il trap, le nuove tendenze musicali? Va benissimo, è sempre stato così. La contaminazione è sempre stato un elemento della musica che ha nutrito la musica. Bach e Frescobaldi si nutrivano della musica popolare dell'epoca. Bach, se oggi fosse presente, se fosse vivo, sarebbe attirato straordinariamente dalla musica elettronica, dalle opportunità che gli strumenti oggi può offrire a un compositore, a un musicista. Quindi la contaminazione va sempre bene. E in queste 12 giornate dedicate proprio alla musica nella splendida cornice dell'isola di San Giorgio a Venezia, quali sono soprattutto proprio la timeline delle prossime date? Allora, intanto sabato il jazz con Rita Marco Tulli, questa grande pianista italiana che ci offrirà un suo proprio autoritratto che è anche il titolo di un suo ultimo disco. Poi abbiamo il 18 giugno Roberto Loregià, le sonate, le variazioni Goldberg, che ai più può dire poco, ma dal momento in cui si ascoltano le prime note tutti quanti potranno dire «Ah, sì, questa la conosco». E queste 33 variazioni su un tema che era uno dei piatti forti di Johann Sebastian Bach, la capacità di improvvisare e variare su un tema dato. Poi avremo un evento speciale con Antonio Fresa, questo pianista, compositore, creatore di colonne sonore, una musicista che lavora con le immagini, proprio perché lavora con il film e con le immagini. Lo ascolteremo lo squero e poi potrà essere riascoltato attraverso le sonorità, le amplificazioni che vengono create all'interno dei giardini, del labirinto della Fondazione Cini per visitare questi luoghi aperti, riaperti appunto alla visita dei turisti. Un ringraziamento quindi speciale al direttore artistico Federico Pupo per questo viaggio proprio nella musica e nella grande bellezza del nostro territorio con Asolo Musica, l'auditorium Lo Squero della Fondazione Giorgio Cini nella splendida isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. Grazie, vi aspetto tutti quanti a godere della musica e della luce di Venezia. E a noi, cari telespettatori, vi lascio alla programmazione di Café TV24 augurandomi un buon proseguimento di serata e con i prossimi incontri.